Bene. Ciao Claudia, ciao a tutti, buonasera. Allora, io direi di cominciare. Come sempre facciamo questi 20 minuti un po' così di spiegazione, insomma, vediamo un po' la parte dell'ermetismo che prosegue la precedente, e poi se dopo ci saranno integrazioni da parte vostra, piuttosto che qualche domanda che vogliamo fare, che vogliamo condividere, riflessione e quant'altro, siamo qua per farlo. E mi raccomando, per chi non c'erano le volte precedenti, abbiamo un pulsante che si chiama reazioni, per cui se poi voleste porre delle domande, o comunque dialogare, l'importante è che alziate la mano, così poi vi do la parola. Se volete farlo anche nel mentre io parlo, non c'è problema, potete interrompermi, tanto io guardo il video e sono qua. Va bene? Ok? Pronti? Prima abbiamo questo mantra, che facciamo tutti così, ci salutiamo. Buonasera a tutti, ciao. Così conosciamo con positività, come dice anche Steiner e tutti i grandi maestri passati. Dunque, oggi accennavamo ad un aspetto un pochino più fisico dell'ermetismo. Noi sappiamo che la filosofia degli elementi chiaramente è un costrutto, no? È un costrutto umano che è servito appunto a tutti gli uomini per descrivere il funzionamento dell'universo. Tuttavia è evidente che qualcosa di reale ci sia in tutto questo. E ricordo che gli elementi non sono la stessa cosa dei fenomeni fisici con cui condividono i nomi. Mi raccomando, per esempio, con l'elemento fuoco non identifico perfettamente il fenomeno fisico del fuoco, ma attraverso la legge ermetica dell'analogia comprendo che è un rapporto di corrispondenza, di similarità, di somiglianza, come preferite. È proprio l'essere come. Entra un'altra persona che si è inserita. Questo significa che l'elemento fuoco possiede molte qualità del fuoco fisico, come ad esempio la tendenza verso l'espansione, il calore, la luminosità, la capacità di trasformazione. Però non è proprio il fuoco fisico, così come noi lo vediamo accendersi su un legno, no? Intanto saluto chi è entrato, Silvia. Ciao Silvia, abbiamo cominciato proprio ora. E poi è importante anche ricordare che gli elementi non agiscono mai da soli. Tutte le cose fisiche sono una combinazione degli elementi terra, fuoco, aria e acqua. Ad esempio, il fenomeno fisico del fuoco non è composto esclusivamente dall'elemento fuoco, ma da tutti e quattro gli elementi che lavorano insieme, compreso anche il quinto, che è la cassa. Scusatemi, frattempo c'è gente che entra e io do l'ok. Perfetto. Quindi, una cosa fisica può mostrare una predominanza di un elemento sugli altri, però li contiene sempre tutti e quattro. Questo è importante comprenderlo. Abbiamo terminato la prima parte, l'altra volta, affermando che l'essere umano è creato ad immagine dell'universo, cioè ad immagine di Dio. Per cui il microcosmo, l'essere umano, è analogo al macrocosmo. Questo è proprio il principio ermetico puro dell'analogia. Ora, essendo il macrocosmo, l'universo, formato dai principi elementali, dai quattro più uno, vediamo come gli iniziati ritrovarono questi elementi nel corpo umano. In quale modalità? Alla testa, al capo, attribuirono il principio del fuoco. All'addome, alla parte bassa quindi del torace, il principio dell'acqua. Al torace proprio, invece, il principio dell'aria, in quanto abbiamo visto nel precedente video che il principio dell'aria è mediatore tra il fuoco e l'acqua. E al complesso del corpo umano, inteso come costitutivo di ossa, di carne, il principio della terra. Quindi voi, chiaramente, noi ci domanderemo. Quindi il quinto principio, quello della cascia, dov'è? Il principio della cascia, o eterico, è nascosto nel sangue e nello sperma maschile, oltre che nell'azione reciproca di queste sostanze sulla vitalità, ovvero sull'essenza vitale. E questo è molto importante perché si ricollega, tra l'altro, perfettamente alla conoscenza che gli ebrei, al valore che gli ebrei danno proprio al sangue, in quanto portatore di vita. Ora, riprendiamo il concetto di polarità contrastanti fra il fluido elettrico e il fluido magnetico, che, se ricordate, avevamo visto essere delle qualità fondamentali, c'è un'altra persona che sta entrando, ok, rispettivamente del principio del fuoco, quello elettrico, e del principio dell'acqua, quello magnetico. Mi raccomando, con il termine fluido, che fu utilizzato da Bardon, come vuoi tanto era cieco, era cieco sullo macco, quindi non so adesso dove va l'accento, viene indicato un'energia o un'essenza che manifesta movimento e che si comporta in modo molto simile all'acqua. Ecco perché si parla di flusso, di fluido magnetico ed elettrico. Ora, questi due fluidi sono la polarità primordiale, cioè le due forze primordiali, e sono efficaci in ogni piano dell'esistenza. Il fluido elettrico abbiamo visto che è un polo positivo, caldo, espansivo, fuoco infatti. Il fluido magnetico è invece il polo opposto, negativo, freddo, contrattivo. E non possono esistere l'uno senza l'altro, perché viviamo in un mondo duale. E come un magnete fisico, questi poli appunto non possono essere separati. Tra l'altro, a livello più alto, questi poli sono espressi attraverso i due volti dell'uno. L'uno, infatti, si fa due. E questo l'avevamo visto anche un po' accennato con la numerologia esoterica sempre nel video precedente. Ora, avevamo detto anche che il fluido nella polarità della Terra è quello invece elettromagnetico, che va a unire entrambi i fluidi, in quanto questo principio può essere considerato come un magnete a quattro polarità, infatti è anche detto magnete quadripolare, ossia i tre elementi precedenti di fuoco, acqua ed aria sono tutti attivi nel principio Terra, il quarto. E ognuno dei quattro elementi ha una specifica carica elettromagnetica. Infatti l'elemento fuoco è in predominanza elettrico, l'acqua è magnetica, l'aria è in equilibrio tra i due, elettrico e magnetico. Non è un caso che gli ermetisti ed anche martinisti con il pantacolo, ora lo vedremo, così come nella Kabbalah, che poi tra l'altro è appunto uno dei più sagrisanti nomi di Dio, ritroviamo la corrispondenza universale nel misterioso simbolo del tetragrammaton, che adesso vi faccio vedere, cioè lo iod e vav e, dove appunto sono presenti tutte le polarità. Io immagino che voi lo conosciate, però ad ogni modo vi condivido l'immagine, che è questa. Come condivido? Allora, tecnicamente si fa così. Questa qua. Ok, lo vedete? Sì. Ok, questo è uno iod, he, vav o vau, he, questo è aramaico. Ok? Questo proprio è il tetragrammaton. E questo è un pantacolo martinista, dove abbiamo gli elementi. il rosso e il nero, i due triangoli, rappresentano le due polarità. Poi abbiamo un esagono e abbiamo una croce. E il cerchio. Quindi ci sono i cinque elementi. Uno, due, tre, quattro e cinque. Va bene? Li vedete? Ok, interrompo la condivisione. Così avete visto pure il tetragramma. Adesso, il flusso elettromagnetico, che è presente nell'elemento terra dell'uomo, è denominato anche magnetismo vitale o animale. Questo è importante perché quando voi leggete dei testi ermetici, lo potete trovare sotto questa denominazione, se no poi non sapete di che si tratta. E in alcuni casi viene anche denominato od, odranto domodossola. Solo due lettere. Allora, abbiamo detto che i fluidi hanno una natura bipolare, come chiaramente tutto il cosmo in cui siamo immersi. Pertanto, anche l'uomo. Quindi, ascoltate bene, il lato destro dell'uomo, del nostro corpo, è elettricamente attivo. In linea generale. Mentre il lato sinistro è magneticamente passivo, quindi fuoco-acqua per comprenderci. Ovvero nel caso in cui una persona che scrive con la mano destra, in quel caso il lato destro del corpo è un lato attivo elettrico, mentre il lato sinistro del corpo è passivo o magnetico. Chiaramente nel caso di una persona mancina si converte il tutto, è tutto l'opposto. Mi viene in mente la spiegazione della legge di gravitazione universale di Newton. La gravità che sta proprio nel fluido elettrico dei corpi che attraverso la sua espansione crea elettroni radianti all'interno di ogni cosa fisica che sono attratti dal fluido magnetico della Terra. Quindi questa polarità, fisicamente Newton l'ha spiegata con il termine di gravità, ma in realtà è proprio questo sistema dei due elementi, fuoco-acqua, che si attirano. Quindi noi siamo attaccati alla Terra, perché la Terra ha un fluido magnetico in superficie, non al centro, al centro è elettrica, in superficie è magnetica, e l'uomo rappresenta, il corpo dell'uomo, dal punto di vista esterno, è un fluido elettrico, radiante, espansivo. Ora, entriamo in un argomento molto interessante, perché per gli ermetisti è fondamentale il nutrimento, cioè ciò di cui noi ci nutriamo. Voi sapete che il filosofo tedesco Feuerbach affermò che siamo ciò che mangiamo. Perché? Perché la giusta alimentazione, quella da assimilare, dovrebbe rispecchiare fedelmente i quattro elementi per essere in armonia. Abbiamo visto, ammettiamo Tommaso che è uscito, abbiamo visto che la disarmonia provoca la malattia. Vi ricordate la volta precedente? Quindi, se per tutta la vita noi ci limitassimo a pochi alimenti e sempre agli stessi, noi alla lunga ci ammaleremmo. Ora, gli ermetisti sanno che la digestione di qualsiasi nutrimento provoca, combinata con la respirazione, un processo di combustione. Si tratta come di un fuoco che viene alimentato attraverso il combustibile. Quindi è evidente che tutta la vita, tutta la nostra intera vita, dipende dalla somministrazione continua di questo combustibile, ossia dall'assunzione del cibo e anche dalla respirazione. Se vengono a mancare degli elementi necessari alla vita o se ne sovrabbondano altri, si manifestano effetti debilitanti. Ad esempio, quando l'elemento fuoco lavora eccessivamente nel corpo, che cosa facciamo? Noi proviamo sete, abbiamo bisogno di reintegrare, di riequilibrare, bevendo. Quando l'elemento aria invece diventa preponderante, abbiamo fame, proviamo fame, perché ci siamo quasi svuotati. Se è maggiore invece l'elemento acqua, noi sentiremo freddo. Se è più attivo l'elemento terra, proveremo stanchezza fisica. Vedete come quattro elementi generano, cosa generano in noi? Quindi, uno stile di vita razionale è indispensabile per mantenere proprio l'armonia degli elementi nel corpo. E in tal senso, come possiamo ragionare il lavoro effettuato dalle cosiddette dieta alimentari, no? Quando uno si mette a dieta, andrebbe effettuato con lo scopo di raggiungere proprio questo equilibrio fra i quattro elementi, ovvero ripristinare quelle che sono le funzioni corporee. E a tal fine esistono alcuni metodi, metodi di cura, che intendono riportare l'equilibrio negli elementi. Mi raccomando, io vi sto facendo tutto questo ragionamento perché, nel video precedente, se vi ricordate, è stato spiegato che gli ermetisti ritengono che lo spirito, perché possa elevarsi, deve essere sano. Mense sana in corpo e sano. Ricordate, avevamo detto, no? Quindi, in base a come noi assimiliamo, comprendiamo, curiamo i quattro elementi presenti in noi, noi in realtà stiamo curando lo spirito. Una persona fisicamente sana è una persona spiritualmente adeguata allo scopo. Abbiamo detto che ci sono, appunto, dei metodi di cura che si possono utilizzare, che da sempre, da quando l'uomo è nato, utilizza per poter stare fisicamente bene, e quindi spiritualmente in forma. Abbiamo la naturopatia, o la medicina naturale, che si fonda sulla dottrina proprio dell'equilibrio termico, per cui tutte le malattie, tutte le infermità, costituiscono sempre uno squilibrio termico, derivato dall'incremento o dal decremento della temperatura interna del corpo. Addirittura i naturopati, sono naturopata, affermano che il corpo deve rimanere a 37 gradi, ma sia esternamente che internamente, perché sia completamente sano. Quindi la naturopatia, in particolar modo, per poter procedere a questo, lo fa attraverso assunzioni di erbe, quindi tisane, piuttosto che lisir, se vogliamo entrare nel sistema alchemico, oppure applicazioni come bagni, impacchi, cataclisma, massaggi, eccetera. Ok? Poi abbiamo la classica allopatia, dal greco allos, diverso, e patos, malattia, che indica la classica terapia farmacologica ufficiale, che è scientificamente in auge, sappiamo, da almeno tre secoli, no? e che agisce con la tecnica di curare attraverso gli elementi contrari, quindi favorendo con questi la guarigione. I latini avrebbero detto contraria, contraris curantur, cioè i contrari si curano con i contrari. Tra l'altro il termine allopatia fu coniato e introdotto da Hahnemann, che fu un medico, un chimico, un tossicologo di altissimo livello. Pensate che all'età di 24 anni Hahnemann poteva leggere e scrivere in sette lingue diverse. E tra l'altro Hahnemann, coniando l'allopatia, lo fece perché per la polarità, per la dualità, perché aveva studiato l'opposto dell'allopatia, che era l'omeopatia. Quindi se l'allopatia è una medicina all'opposto, perché si basa sulla volontà di sopprimere e contrastare i sintomi delle malattie, cosa che in alcune situazioni si rende indispensabile e insostituibile, l'omeopatia invece stimola gli elementi opposti secondo il principio similia simili bus curantur, ovvero il simile cura il simile. Quindi allo scopo di ripristinare, grazie alle leggi della polarità, l'equilibrio infranto. Valutate che nel 1900, oggi siamo in un mondo in cui la scienza non considera più l'omeopatia ai noi, perché nel 1900 c'erano 22 scuole mediche omeopatiche, c'erano più di 100 ospedali omeopatici, c'erano più di 60 asili per orfani e case di cura, più di mille farmacie omeopatiche, solo questo in un piccolo quartiere degli Stati Uniti d'America. Quindi stiamo parlando proprio di una cura che era importante, era quella che oggi la scienza utilizza come all'opatia. Poi abbiamo un altro metodo che è invece, non so se lo conoscete, l'elettro-omeopatia, che invece agisce direttamente sui due fluidi di cui abbiamo parlato, il fluido elettrico e il fluido magnetico, quindi sugli elementi acqua, fuoco, attivo, passivo, e che è stata la terapia medica più praticata al mondo dal 1870 al 1930. e fu inventata dal conte Cesare Mattei, qualora voleste approfondire. Tra l'altro era interessante perché venivano utilizzati dei granuli omeopatici in concomitanza con alcuni liquidi o detti fluidi elettrici che erano suddivisi in base alla loro polarizzazione, eccetera. Quindi una cura che era assolutamente molto 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 valida. infine vi era la magnetopatia che oggi poi è stata sostituita dalla magnetoteropatia, non mi ricordo, insomma, qualcosa di un po' più contemporaneo, che permette di trattare la parte malata del corpo in quanto sede della patologia o con il fluido elettrico o con il fluido magnetico a seconda della necessità. Per cui alcuni organi hanno la capacità di far scorrere il fluido elettrico dall'interno verso l'esterno e il fluido magnetico dall'esterno verso l'interno, mentre altri hanno, lo hanno in maniera completamente opposta ed è in questo modo che l'intero organismo si comporta armoniosamente. ecco, è proprio conoscere queste azioni dei singoli organi ciò di cui tratta la cosiddetta dottrina dell'emanazione bipolare che dalle scienze ermetiche viene denominata anatomia occulta. e per gli iniziati è fondamentale conoscere gli effetti dell'anatomia occulta se si vuole pervenire alla conoscenza completa del proprio corpo e quindi essere in grado perché è lì che l'ermetista vuole giungere ad influenzarlo, a controllarlo proprio perché come abbiamo detto alla sanità di corpo corrisponde la sanità di spirito e conoscere se stessi ovvero il microcosmo significa conoscere il mondo che ci circonda. Infatti a livello macrocosmico il fluido elettrico fuoco è situato all'interno di ogni cosa che sia stata creata perciò anche come dicevo prima è il centro della Terra laddove invece il fluido magnetico si trova sulla superficie della Terra e di qualsiasi cosa sia stata creata. E dato che da un punto di vista chimico o alchemico il fluido elettrico fuoco produce gli acidi in tutti i corpi compreso il corpo dell'uomo l'acido quindi i corpi sia organici che inorganici il fluido magnetico invece è presente in maniera alcalina quindi comprendete che per poter vivere in maniera equilibrata non si può avere troppo fuoco troppo acido nel corpo così come non si può essere troppo alcalini bisogna trovare per generare salute l'incastro tra i due sono già le nove e mezza dunque io se volete vi indico anche un pochino lo schema che ha fatto Bardon in merito alla bipolarità dell'anatomia occulta fermo restando che fermo restando che se un postulante cioè colui che bussa al tempio che richiede l'iniziazione ad un ordine iniziatico riuscirà a fare uso degli elementi nella loro forma un po' più sottile chiaramente sarà in grado anche di risultare di ottenere dei risultati straordinari sul proprio corpo ma qui poi entriamo in altri ambiti più sottili ora noi siamo nella teoria che si può divulgare quindi non lo so se volete vediamo un po' questo aspetto anche per dire gli ermetisti spiegano come la parte anteriore della testa ad esempio è elettrica mentre la parte posteriore è magnetica questo può essere interessante per comprendere ad esempio i mal di testa piuttosto che le malattie della testa poi spiegano che la parte destra è magnetica mentre la parte sinistra è elettrica e la parte interna è elettrica la parte interna della testa poi ci sono gli occhi per cui la parte anteriore e quella posteriore sono neutri aria sono neutri mentre la parte destra e sinistra degli occhi è elettrica e la parte interna e magnetica lo stesso possiamo dire anche delle delle orecchie la bocca la lingua il collo non so se queste cose vi interessano io proseguo a spiegarne un po' così come come sto facendo altrimenti ci fermiamo e mi dite se intanto i concetti compresi sono sono chiari o se sono stata troppo antipatica ditemi che qualcuno parla a me interessa io a me interessa a me interessa se prosegue è molto interessante anche per me assolutamente va bene se volete segnarvele queste cose se avete il testo poi da da seguire ad esempio su sulle parti qui del dell'anatomia occulta ci vediamo appunto lo vediamo in maniera generale perché poi l'approfondiremo più avanti oggi insomma non possiamo dire tutto è claudia quindi il libro come hai detto che si intitola che ci consiglia pensatelo perché secondo me vale la pena è intenzione alle dottrine ermetiche il primo volume di france barton tutto quello che vi sto dicendo l'ho tratto qua poi ho aggiunto delle cose che chiaramente conosco senza andare troppo oltre perché delle specifiche le vedremo strada facendo ho cercato di renderlo un po' più semplice perché chiaramente chi non conosce l'ermetismo approccia la prima volta alcuni concetti possono risultare un pochino più astrusi però devo dire che è veramente molto semplice questo testo non è nulla di complicato grazie sei tu che lo rendi facile come Anna Maria sei tu che lo rendi facile e lo semplifici per noi fai un lavoro splendido e quindi anche l'approccio che potremmo avere leggendo questo libro sarà sicuramente diverso di una persona che non non ha mai sentito nulla e tu lo spieghi anche in un modo che comunque veramente sono degli argomenti dei contenuti veramente pesanti ma tu li alleggerisci parecchio quindi semplifichi molto il lavoro anche a noi grazie grazie veramente Claudia sono contenta grazie a voi questo mi fa piacere questo è ciò che conta insomma perché poi bisogna avere il tempo qui c'è qualcuno che entra e esce in continuazione che si perde bisogna avere anche il tempo di vederli di approfondire magari alcuni alcuni argomenti però allora a questo punto andiamo avanti vediamo pure le nostre orecchiette dove la parte anteriore e posteriore è neutra mentre il lato destro è magnetico il lato sinistro è elettrico di ogni di ogni orecchio e l'interno è neutro poi abbiamo la bocca e la lingua dove la parte anteriore e la parte posteriore dove il lato destro e il lato sinistro sono neutri ma all'interno è magnetico umido acqua no? è magnetico poi abbiamo il collo dove la parte anteriore la parte posteriore il lato destro sono magnetici ma il lato sinistro così come anche l'interno è elettrico ecco perché è fondamentale bere molta acqua anche per il passaggio della tracheite nella gola poi abbiamo il torace dove la parte anteriore del torace è elettromagnetica quindi un misto di elettrico e magnetico la parte posteriore dietro è elettrica il lato destro è neutro ma il lato sinistro è elettrico mentre l'interno è neutro perché poi all'interno ci sono i vari organi che poi andrebbero esaminati poi abbiamo l'addome la parte bassa sotto il diaframma dove la parte anteriore è elettrica la parte posteriore è magnetica il lato destro è magnetico mentre il lato sinistro è elettrico e l'interno è magnetico poi abbiamo le mani dove la parte anteriore e la parte posteriore sono neutri neutre le parti il lato destro di ogni mano è magnetico il lato sinistro è elettrico e l'interno della mano è neutro con i muscoli i tendini le dita di entrambe le mani hanno la parte anteriore e la parte posteriore delle dita che sono neutre il lato destro e il lato sinistro che sono elettrici e l'interno che come la mano è neutro abbiamo i piedi abbiamo pure i piedi le due parti posteriori ed anteriore sono neutre il lato destro è magnetico il lato sinistro è elettrico e l'interno come le mani è neutro poi qui è interessante perché entriamo nei genitali maschili dove la parte anteriore è elettrica la parte posteriore e i due lati sono neutri e l'interno è magnetico mentre nel genitale femminile l'interno è elettrico la parte anteriore come? ok la parte anteriore è magnetica e la parte posteriore e i lati sono neutri infine infine abbiamo il coccige e l'ano dove la parte anteriore la parte posteriore i lati destro e il lato sinistro sono neutri mentre l'interno è magnetico ok? il che vuol dire che quando si hanno quei problemini che prude il sederino è perché si è mangiata troppa roba di fuoco quando ci sono problemi alle 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 vie urinarie lo stesso motivo troppo peperoncino troppo insaccati troppa roba calorica essendo l'interno magnetico bisogna mantenerlo più acquoso più 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 no? più freddo scusami Claudia posso? Massimiliano ciao Massimiliano ma sulla base di che cosa fai queste distinzioni sulle mani su ogni parte del corpo sulla base insomma delle tue conoscenze o sulla base ecco degli elementi che costituiscono la mano insomma possono costituire la testa perché così in un certo modo mi confonde come faccio a ricordarmi un po' tutte queste cose insomma ci sono già degli schemi che tu già conosci per ogni singola parte del corpo o perché la mano è costituita che ne so di tendini come dicevi oppure ancora muscoli e quindi sono di una sostanza che lega la terra che ne so o ancora una volta dici neutro una volta dici insomma elettrico magnetico elettromagnetico quindi un momento mi perdo volevo capire insomma sulla base di che cosa fai questa questa distinzione sulla base della scienza ermetica cioè uno studio che la scienza ermetica ha effettuato sull'uomo quindi è una conoscenza tua non sulla base ecco non ho inventato nulla è una conoscenza mia che viene da me è una conoscenza antica tradizionale dell'ermetismo classico dico non ci posso arrivare io per deduzione ecco sono la base di che cosa massimiliano ci serve per deduzione se tu arrivi a livelli di conoscenza tale che riesci a comprendere intuitivamente effettivamente i fluidi presenti i flussi presenti all'interno del corpo è normale che se sei profano della materia non ci arrivi per deduzione a meno che insomma ci si può anche arrivare per deduzione tranquillamente dipende dal tuo stadio di conoscenza profano profano solo non vuol dire profano non profano è lo stadio di conoscenza poi alla fine oltre all'esperienza personale perché poi c'è anche un'esperienza personale no? io credo che ognuno di noi può possa parlare in base alla prova l'agnosi in realtà nasce anche anche e soprattutto da una conoscenza personale prima che sui libri noi usiamo il libro come strumento i libri sono strumenti no? servono solo per avere una maggior cognizione di ciò che già noi in pratica potremmo sperimentare gli esempi che vi facciamo prima sono esempi sperimentabili da chiunque chiunque sa che se mangia tutti i giorni il gelato e quindi fa entrare tanto tanto freddo prima o poi magari si becca un mal di gola o comincia ad avere qualche potrebbe avere qualche qualche problema anche all'intestino perché se tu accumuli un'estrema acqua per dire un estremo quindi magnetismo chiaramente tutta la parte elettrica soggiace e bisogna riequilibrare il tutto affinché poi la salute ritorni e non si cada nella malattia nel disequilibrio questo insegnano i quattro elementi l'equilibrio l'equilibrio è salute la salute è spirito la salute dello spirito è evoluzione posso intervenire un attimo certo Anna allora volevo dire no a volte si dice quella persona ha uno sguardo magnetico cosa vuol dire cioè nel senso che ti attrae che emana un qualcosa di particolare che magnetismo è qualcosa che ti può diciamo attrarre no perché non so come spiegarmi senti un qualcosa di diverso o perlomeno da queste espressioni dimmi esatto non ho corretto perché una persona e dice dice che ne so di te hai uno sguardo magnetico e un'altra di te non lo dice perché gli elementi presenti dentro di te probabilmente sono attirati magari tu potresti avere un eccesso di fuoco ed essere attirato quindi dall'elemento opposto quindi è come se ci fosse un calore che ti trasporta nel tuo caso se tu hai un eccesso di calore interno se una persona passionale riesci a trovare dall'altra parte il polo opposto perché gli opposti si attirano normalmente anche la fisica ce lo insegna ma può succedere anche il contrario pensiamo infatti a semillasimilibus come anche una persona a volte ha uno sguardo gelito vedi una persona ha uno sguardo gelito eppure quella persona col suo sguardo gelito fa innamorare tante altre persone quindi è tutto relativo e dipende da come siamo noi composti internamente poi esiste l'equilibrio perché non si può negare che esista anche la bellezza che non è soggettiva ma sia oggettiva quando è che si raggiunge l'oggettività quando c'è l'equilibrio altrimenti la bellezza potrebbe essere una bellezza esteriore una bellezza interna per cui anche il discorso della bellezza c'ha tanto da dire cioè è un'altra è un'altra è un altro discorso penso eh non lo so immagino è chiaro che è un altro discorso era un pochino per focalizzare il il senso soggettivo piuttosto che oggettivo ovvero come noi siamo composti perché io sono diversa da come sei composta te perché sono diversa eppure sono sempre i cinque elementi che lavorano su di me eppure siamo diversi perché abbiamo un influsso astrale che è differente e qui poi entriamo anche nel discorso dei segni zodiacali di quando siamo nati di quale influsso l'universo ha avuto su di noi il giorno della nascita non è della nascita ma del concepimento ma qui non entriamo in merito perché gli argomenti diventano dispersivi beh il concepimento è un altro periodo diverso dalla nascita esatto lo zodiaco di una persona andrebbe andrebbe trovato nel giorno del concepimento non nel giorno della nascita beh è un po' complicato allora ma che c'è di complicato è tutto matematicamente dovrebbe sì sì dovrebbe essere ma sai a volte la nascita si dice d'otte giorni poi magari non sono mai quelli quindi insomma è relativo credo non lo so non lo so è un discorso che non so vabbè lasciamo stare questo bene bene grazie è bello averlo preso perché ogni cosa fa bene no comunque lei è mia mamma ve la presento è buio oggi io e mia mamma siamo in continuo dialogo ok ho fatto la scena anche qua ok Alessandro sono curiosa dici qualcosa che Alessandro è una persona estremamente sapiente a me piace molto averlo averlo qui ti fa piacere dire due parole Alessandro ciao sì se volete posso sì volentieri faccio io o avete l'uguale se volete posso rispondere a una domanda che non mi ricordo chi ha fatto prima che non capiva bene come si poteva arrivare a certe conclusioni non ho letto chi l'ha fatto Massimiliano e vabbè quindi a parte leggere libri arrivi dalle conclusioni rispetto a quello che hai letto però ovviamente si può chi ha scritto quei libri o gli maestri prima hanno fatto degli studi probabilmente interiori rispetto a quello che sentivano su loro stessi delle sostanze che compongono il nostro universo e hanno cercato di sintetizzare con le parole possibili quello che sentivano insomma e alla fine è tutto lì non è poi neanche così tanto complicato non c'è niente di misterioso in tutto questo oggi la scienza usa altri termini e ovviamente i maestri di un tempo ne usavano di diversi io se volete vi posso condividere degli appunti che ho di vecchie lezioni di alchimia e che probabilmente possono aiutare a risolvere il mistero di queste correlazioni perché uso dei termini proprio molto semplici quasi molto terra terra che però è sempre bello utilizzarli così alla prima lezione di alchimia che ho partecipato tantissimi anni fa forse nel 2005 forse così il maestro che si chiama Joel ha iniziato così la lezione è entrato e mangiando un biscotto e mentre mangiava con la bocca piena ci diceva sapete che cos'è l'alchimia? e noi ovviamente la lezione siamo venuti apposta e lui ha risposto l'alchimia è questo che sto facendo adesso cioè mangiare un biscotto era un po' strana questa risposta ma poi nel tempo non ci ha mai risposto durante quella lezione perché aveva detto così però poi nel tempo si capiva questa cosa perché alla fine tutti questi processi che noi studiamo sono molto più semplici di quelli che si pensa perché alchimia è mangiare un biscotto perché noi da un biscotto che è qualcosa di materiale fatto dall'uomo con farina acqua insomma quello che è una volta mangiato va dentro il corpo si disgrega si distrugge non ha più la forma originaria e diventa energia questa energia non è una cosa così scontata non è che ci serve solo per camminare vestirci eccetera l'energia di un biscotto è un'energia potenziale per le nostre idee e per il nostro destino e questa è una cosa molto profonda è un biscotto dopo tutto e alla fine come si dice le idee che avevano questi maestri rispetto alla suddivisione dell'anatomia occulta delle energie che ci circolano le hanno sviluppate attraverso queste intuizioni probabilmente mangiando anche solo un biscotto e quindi a volte tutte queste domande che ci facciamo sono probabilmente soprattutto rispetto ai termini che usano che non capiamo non tanto rispetto al concetto di base che vogliono esprimere quindi a volte queste cose di esoterismo di alchimia sono difficili solo perché i termini sono troppo diversi dalla nostra cultura o dal nostro modo di vedere di leggere di esprimerci o cose del genere e se volete vi continuo vi dico gli appunti sì allora però come come dicevo prima probabilmente la Claudia aveva usato il termine fluido magnetico elettrico elettromagnetico insieme che sono due principi separati che però ovviamente sono tutti riscontrabili nello stesso corpo così come tutti e quattro gli elementi sono principi separati per concetto ma non per essenza interiore cioè noi li ritroviamo sempre in ogni corpo sono presenti sempre tutti per l'unità corporale ovviamente poi ovviamente ci può essere una maggiore presenza di un elemento rispetto a un altro può dipendere anche dal tipo di corpo o dal momento perché per esempio se noi facciamo un esempio sulla macchina umana l'elemento fuoco può essere più presente in un momento della giornata rispetto a un altro ma a noi è sempre presente anche se per esempio come dicono tutti l'elemento fuoco è la mattina è più presente nell'uomo rispetto che alla notte ma c'è sempre questo elemento quindi anche queste intuizioni come si sviluppano di chiamare un elemento riscontrarne la presenza del corpo dipende anche dalle funzioni del nostro corpo come come posso dire come agisce durante la giornata quindi la divisione per esempio in alchimia che avevo anche già detto l'altra volta in questi due principi opposti che uno viene chiamato mercurio e uno viene chiamato zolfo dividono il corpo umano e le sue funzioni in due aspetti separati che però sono gli stessi che Brandon dice del fluido elettrico e del fluido magnetico sono solo due termini diversi che però fanno coincidere gli stessi concetti così come nella medicina cinese avevano degli altri termini o come nella tradizione ayurvedica usavano altri termini ecco tutto qui poi i concetti sono sempre molto molto simili e per esempio nel come posso dire nella sostanza mercurio si ritrova l'essenza mentale umana tutto quello che riguarda i pensieri e tutto quello che si eleva verso l'alto invece nel principio dello zolfo è l'essenza corporale quindi tutto quello che si contrae o va verso il basso l'unione di questi due principi crea un terzo principio che gli alchimisti chiamavano sale che è quello che unisce i due quindi anche nelle funzioni proprio del corpo fisico possiamo trovare degli organi che sono prettamente mercuriali degli organi che sono prettamente sulfurici e degli organi che si rispecchiano di più nel principio salino ok quindi andando sempre anche più nello specifico possiamo arrivare fino alla composizione dei singoli carboidrati e capire che sono più di elemento mercuriale alla composizione degli aminoacidi che sono più di elemento sulfurico e alla composizione dei grassi che sono di più elemento salino è solamente una lente di ingrandimento che va sempre nel più piccolo però basta rispettare i principi di base e da lì poi ovviamente le intuizioni dei maestri si sono sviluppate e oggi noi possiamo rapportarle con quello che studia la scienza di oggi e vederle rispecchiate assolutamente in tutte in tutte le loro parti i quattro elementi invece ovviamente si integrano in questi tre principi ma sono le forze che creano il movimento e quindi la vita stessa di questi elementi di questi principi perché altrimenti sarebbero tutti fermi dopo tutto e quindi questi quattro elementi con i loro principi interiori agiscono su questi tre principi fondamentali della costituzione di ogni corpo non solo quello umano e ricordiamoci di ogni corpo di qualunque cosa anche quella cosa che non possiamo toccare in tutto c'è ovviamente e questi quattro principi che sono il fuoco la terra l'aria e l'acqua agiscono come delle forze interiori che fanno muovere per esempio andiamo super specifico anche per farvi capire a volte parlando con i termini medici è più facile uno che intuisce queste cose quindi c'è l'elemento fuoco oggi lo possiamo ricondurre a un comando rigeneratore del corpo e al comando a una specie di stimolo uno come per esempio lo stimolo sinaptico della digestione quello è un elemento fuoco nella preparazione dei rimedi alchemici che prima Claudia ne parlava la preparazione con l'elemento fuoco si chiama calcinazione cioè che è il bruciare delle erbe una cosa lunga invece l'elemento terra è più un comando endocrino nel corpo quindi è un'azione per esempio parlando sempre della digestione visto che ci sono sempre tutti e quattro gli elementi in un solo costrutto è il movimento peristaltico della digestione l'elemento terra è una propria di azione non è lo stimolo è proprio qualcosa che fa perché il fuoco è l'intenzione e la terra è la creazione è il fare il fuoco è un'intenzione quindi per quello è uno stimolo è un comando invece la terra è il comando endocrino che è quello che ti permette di fare ormonalmente poi c'è l'elemento acqua che continuando sempre sullo stesso no parte della digestione è il comando metabolico che è quello che ti permette di assorbire i nutrienti quindi è come se l'acqua volesse diffondere i nutrimenti in tutto il corpo e quindi fa parte di quel comando metabolico di assorbimento invece l'aria l'ultimo elemento è il comando nervoso della digestione della separazione del cibo e quindi tutta quella quella parte della digestione della separazione delle macromolecole in tutti i componenti sempre più piccoli questo è l'esempio proprio pratico magari con termini un pochino più medici dell'applicazione della teoria dei quattro elementi e delle tre sostanze o delle due sostanze di Brandon in una cosa che magari è più facile da intuire e da capire a noi perché ne parliamo di tutti i giorni però lo si può ovviamente applicare a qualunque cosa praticante si capiva? si è capito perfettamente grazie che bella integrazione wow bello insomma qui molti ti conoscono altri ancora no e ti conosceranno perché veramente dai sempre quel quid in più quel surplus che a noi serve c'è qualcun altro che vuole fare altre aggiunte una propria esperienza personale ho visto che è entrato anche Luigi ciao Luigi e anche Fabrizio ciao guarda entrambi siete ottimi conoscitori non so Fabrizio tu vuoi aggiungere qualcosa che tu sei molto molto amante della materia come vuoi eh se ti senti se te la senti si sente si perfettamente si senti ciao 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 carissimi ho ascoltato quello che ha detto come si chiamano non mi ricordo Alessandro Alessandro molto interessante molto in gamba sì poi ci sono altre teorie diciamo perché l'alchimia è molto vasta c'è il suo lato psicologico spagirico e poi c'è un lato anche alchemico fisico diciamo è nulla quello che ha detto condivido molto però ecco non si ferma soltanto in quel campo l'alchimia ad esempio il mercurio alcune alchimiste per mercurio zolfo sale intendono altre cose cioè intendono un elemento ben preciso che questo elemento racchiude i tre principi e si va su un altro campo però lì è nulla di che puoi parlare come? accennaci se ti fa piacere se ti va sì sì come no ad esempio anche la quintessenza che ho ascoltato si parlava della caccia giusto mi sembra no? assolutamente questo va bene diciamo nel macrocosmo ma nel microcosmo la quintessenza è un altro elemento analogo che l'alchimista deve ricercare il discepolo deve ricercare e questo principio che viene chiamato quintessenza viene simboleggiato appunto dalla stella cinque punte che è il simbolo dell'uomo però è anche il simbolo della quintessenza infatti c'era un ordine massonico alchemico che veniva chiamato la stella fiammeggiante poi condivido quello che abbiamo detto sui quattro elementi sull'equilibrio del corpo quello è importantissimo tutto dipende tantissimo dipende dall'alimentazione ma anche dal movimento fisico dalla ginnastica anche infatti Pitagora consigliava ai propri discepoli di fare attività fisica ma non solo Pitagora ho scoperto anche altri iniziati e quello è importantissimo perché sgrossando la materia dai in modo allo spirito di emergere se la materia è grossolana lo spirito è come sempre rigionato nella materia quindi più raffini il corpo e più raffini lo spirito infatti in una famosa regola è detto corpo e spirito sono legalità un filo invisibile perfezionare l'uno significa perfezionare anche l'altro non si può c'è chi lavora solo in un in un verso e chi in un altro invece le due cose andrebbero sposate come avviene poi nei grandi praticanti di arti marziali ad esempio i maestri Shaolin loro praticano questo curano corpo e mente e sembra una cosa semplice ma parlo per per esperienza personale è una cosa importantissima perché è proprio un trampolino di lancio al di là poi degli studi delle del cammino che ognuno può fare però ecco questo qui dell'alimentazione movimento fisico e tutto lo studio poi che c'è dietro è importantissimo per la propria crescita non so grazie assolutamente grazie a voi grazie di cuore vedi vedi Claudia ti ha messo anche il cuoricino non lo vedi grazie ottimo grazie un po' buona allora Luigi tu puoi dire qualcosa ti metto in mezzo no no non dico niente perché sono molto poco cioè sono qualcosa ma la sto in maniera confusa quindi preferisco non dire niente ma come preferisci cos'è cioè la prima alzata di mano adesso abbiamo fatto a random vai Claudia Claudietta ciao di nuovo allora io volevo rispondere a Massimiliano e volevo dirgli che secondo la mia esperienza tutto va fatto per esperienza e assicuro che se tu pensi l'energia se ci pensate l'energia va dove va l'attenzione e tutto come noi sappiamo come Claudia ci dice sempre tutto è mente come uno dei principi ermedici quindi se tu metti l'attenzione ok mentale nella tua mano percepisci qualcosa percepisci un'energia un formicolio continui ad avere questa attenzione mentale sulla mano e questo formicolio aumenta adesso tu puoi muovere questo formicolio questa energia la puoi muovere ovunque e ti assicuro che se sei fermo sei rilassato e sei assolutamente centrato mentalmente su quel punto del tuo corpo e dai una sensazione quale caldo freddo freddo o altro tu riuscirai a sentire quella sensazione se tu metti attenzione mentale nella parte bassa delle gambe mentre sei rilassato sei sdraiato sul letto e dai una sensazione un comando dai un comando al tuo corpo e non fare sì che il tuo corpo comandi te vedi la verità è questa è una delle tante verità ok nessuno ci insegna come respirare lo facciamo perché lo sappiamo fare e quindi non è facile e i nostri maestri Claudia ci hanno lasciato un dono una conoscenza e l'hanno hanno lasciato questa conoscenza in base alle loro esperienze ora se tutti noi guardiamo una mela ok se tutti noi osserviamo una mela possiamo dire che quella mela è di colore rosso giusto? ok ma sempre e comunque ognuno di noi secondo la propria esperienza visiva la propria sensazione dirà che quel colore è di un certo rosso rispetto a un altro rosso che una persona dice che è voglio dire tu non sai mai che rosso vede quella persona e quella persona la vedrà in quel modo e descriverà quel tipo di colore in base alla sua esperienza e tu non è che puoi dire che sai perfettamente come lei vede c'è una verità assoluta giusto? ovvero che la mela sicuramente è rossa è perché se tutti la vediamo rossa è rossa questa mela però ognuno la vede in maniera diversa e poi la descrive in maniera diversa però il fatto è questo nessuno nessuno ci dice come noi dobbiamo respirare lo facciamo naturalmente quindi se tu ascolti dentro di te se ognuno di noi ascolta la voce interiore l'intuizione e l'ascolta nel silenzio nel suono del silenzio e pone la domanda ogni risposta arriva a tutti perché tutti noi abbiamo la capacità la conoscenza noi già sappiamo ma dobbiamo fare esperienza per ricordare ciò che già noi sappiamo perché è così quindi Massimiliano Claudia secondo le sue conoscenze e secondo anche la sua esperienza diretta ci ha dato oggi queste informazioni che anche Bardon secondo le sue esperienze le sue conoscenze dirette ha potuto constatare quindi Massimiliano io voglio ti ho detto questo perché per esperienza ho provato cose e sensazioni ascoltando me stessa ascoltando il mio corpo ascoltando questa voce che è dentro ognuno di noi e questa è la cosa importante aprire questo cuore essere capaci di essere stare soli con noi stessi meditare 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 significa respirare sedersi sotto un albero come diceva all'inizio del della lezione del del video già non mi ricordo Maria quando parlava che ascolta gli audiolibri di Claudia mentre fa una passeggiata ok vedi io ho questa foto del tramonto io vado sempre lì e ascolto le onde del mare ogni tanto si mi ascolta gli audiolibri di Claudia ammetto sono sempre lì che passeggio e sono sempre sola e a un certo punto mi fermo mi sdraio lì e inizio a respirare ascolto il mio respiro e faccio questi esercizi che prima ti ho detto metto attenzione mentale sulle gambe sulle braccia inizio a muovere questo formicolio questa energia gli do una sensazione o se magari ho un po' freddo inizio a dare un comando ecco divento io padrona divento io la mente perché noi pensiamo di essere il nostro corpo noi pensiamo di essere la nostra mente pensiamo di essere i nostri sentimenti e non siamo niente di tutto questo però siamo governati da questi ecco questo lo dice anche Roberta Saggioli in effetti al grande maestro grazie Claudia per la tua esperienza diretta scusami non ti voglio togliere la parola però è giusto anche darla agli altri che hanno alzato la mano ma credo che il concetto che tu hai espresso è estremamente chiaro e veramente fonte di esperienza come sappiamo complimenti brava grazie da Massimiliano grazie anche grazie a Massimiliano perché ha permesso tutto questo insomma questo dialogare che è molto proficuo in effetti Anna Maria Anna Maria scusami hai dimenticato di accendere il microfono aspetta eh ora ci sono non te Anna Maria Anna Maria ah ecco allora ok scusate e dicevo che appunto riprendendo il discorso della della mente sana in un corpo in un corpo sano che ovviamente ci permette di elevarci spiritualmente in un modo più eh più sicuro anche perché magari erroneamente si possono prendere delle state sbagliate ehm volevo rifarmi a questo concetto perché io ascoltandovi stasera poi rimango sempre dell'idea che nulla viene per caso quindi anche l'aver partecipato per la prima volta nonostante mi sia fatta appunto un tour del post dei primi quattro video in due giorni mi ha fatto arrivare al percorso all'incontro di oggi che poi è alla fine quello che trago io cioè quello che trago io che è praticamente il percorso che ho fatto io eh o meglio io ho iniziato il mio percorso di crescita interiore molti anni fa però ho capito qual era la strada da apprendere tra virgolette sette anni fa ho iniziato questo percorso probabilmente l'ho iniziato non dico col piede sbagliato però magari l'ho affrontato con molta leggerezza no? Quindi diciamo che predicavo bene razzolavo male facevo un certo percorso però nel mondo profano magari non non ero coerente con con quello che era il mio percorso di crescita interiore poi appunto quattro anni fa ho avuto una botta eh questa botta eh io tra virgolette come dice Cravoli ancora la ringrazio eh questa botta è stata un tumore al seno che si è risolto ma questa botta a me ha fatto capire tantissime cose prima di tutto eh quali sono realmente le cose più importanti nella vita e quindi mi ha fatto anche rimettere in discussione mi ha fatto rimettere in discussione tutto quello che avevo prima c'è questa corsa ad avere sempre di più il materialismo quindi per forza massacrassi lì lavoro la mattina e la sera qui per che cosa per nulla perché comunque non era una persona felice nonostante aversi intrapreso quel percorso allora dalla mia malattia io ho imparato tantissimo a curare il mio corpo io da tre anni a questa parte mi recco ogni mattina dentro il cimitero abito a Cagliari abito vicino a un cimitero al più grande cimitero che c'è a Cagliari per me è una sorta di parco dove io entro la mattina per farmi la mia 50-60 minuti di camminata veloce ascolto gli audiori di Claudia ascolto musica però comunque quella è la mia ora è l'ora tutta mia in cui io comunque dedico dedico un'ora la mia giornata con gli studi mi ha rimesso in discussione appunto per quanto riguarda anche l'alimentazione che io curo molto di più sicuramente perché sento questo bisogno di pulirmi di purificarmi anche attraverso l'alimentazione attraverso lo sport e poi anche attraverso un percorso posso tranquillamente parlarne io sono da sette anni sono un massone per cui un massone molto umile quindi nel senso che facciamo veramente esoterismo pure questo a me mi aiuta tantissimo nella mia crescita interiore anche se qui la massoneria si sa benissimo che è un è un percorso individuale fatto nel gruppo dove magari quando si incontra il gruppo giusto ci si confronta quindi io posso assicurarvi che una volta che mi sono ammalata ho lasciato il lavoro appunto per concentrarmi nelle mie passioni che sono a parte l'esoterismo la ricerca dell'occulto anche io dipingo mi piacciono moltissimo i tarocchi ho iniziato vent'anni fa con i tarocchi e forse quello è stato l'inizio del mio percorso inconsapevole fino ad approdare a questo e fin tanto poi tra l'altro che ho conosciuto le pagine di Claudia su YouTube per me sono state una una manna dal cielo perché mi hanno aiutato stanno praticamente completando quello che è la mia ricerca della strada migliore per poter generare spiritualmente e a piccoli passi certo mi ci vorranno due o tre vite forse anche di più però a piccoli passi ci sto riuscendo e quindi credo che questo è questa alchimia questa io a piccoli passi ci sto riuscendo e oggi ho avuto la conferma che ho iniziato a intraprendere la strada giusta grazie che bello grazie grazie a voi sono varie le mie esperienze di vita guarda insegnano molto no si fanno anche crescere moltissimo molto complimenti grazie bene vai allora io avevo una domanda forse un po' ingenua cioè comunque da scompetenti siccome avevo letto che la salute dipende dal corpo eterico che compenetra il corpo fisico e che si nutre di prana ma alla luce di quello che è stato detto quindi questo prana cos'è sarebbe la cascia la contessenza sono un po' confusa su questo punto in realtà il corpo il corpo eterico è il corpo vitale in effetti poi non so se vuoi vedere dal punto di vista steneriano non prende proprio in considerazione i cinque principi in questo modo la vita la vita solitamente è la cascia è il quinto elemento ok va bene grazie vai luigi luigi ti può rispondere ancora meglio perché lui è antroposofo io no vai luigi no no ma non non voglio rispondere ah scusa pensavo dai diccilo tu no no cioè volevo fare una domanda intanto mi dispiace essere arrivato tardi perché l'argomento mi interessava moltissimo solo che che a martedì ho la riunione del mio gruppo quindi sono arrivato tardi però sono contentissimo di di essere qui insieme a voi perché ho percepito delle delle conoscenze di persone che che studiano con con passione e quindi questa cosa è bellissima proprio cioè bellissima per per le persone in sé e perché comunque trasmettono un sapere che che poi è utile insomma quindi si fanno portatori di di conoscenze importanti importanti soprattutto in questi tempi così così confusi insomma in qualche modo allora e quindi insomma non 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 riesco ad essere super concentrato magari avrei da dire delle cose però riesco farlo la prossima volta e invece vorrei fare una domanda prima si parlava dei dei quattro elementi e come interagiscono con con i tre principi si chiamano principi il sale lo zolfo e mercurio è una domanda intanto si chiamano principi sì 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 va benissimo certo ok allora il fatto è tutto che in pratica tra di loro ci siano delle interazioni cioè quattro elementi tre principi la cosa più semplice è quattro per tre dodici che è un numero particolare ovviamente c'entrano in qualche c'entrano in qualche modo le perché cioè io voglio dire la 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 cosa che scusami Luigi ripeti c'entrano perché proprio la parola clou è venuta a saltare cioè c'entrano i numeri cioè le leggi dei numeri perché c'è da da quello che che intuisco queste interazioni ci sono nel macrocosmo e nel microcosmo e e quindi c'è una come dire un'affinità un 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 legame cioè nell'umanesimo al riaccimento ci sono delle termine molto precise che sono stanco e non mi ricordo vorrei capire un po' di più l'ordine collegato con il numero ecco a proposito del dei processi alchemici se se qualcuno ci ha riflettuto tutto questo facciamo rispondere Alessandro che ci avrà riflettuto sicuramente io posso dire anche la mia però intanto sentiamo Alessandro c'è riflettuto no Ale funziona? incastro sì allora volevo capire meglio la domanda perché bisogna capirla meglio tu hai chiesto della relazione della come posso dire della scienza della numerologia esoterica rispetto a quello che abbiamo detto prima? sì praticamente voglio dire il fatto che ci siano quattro elementi per esempio e non tre e non cinque e i principi siano tre me le immagino come una cosa molto molto definita molto particolare c'è un come se ci fosse veramente un ordine preciso che è quello e non può essere un altro allora sì esatto perché quando i maestri sono venuti su questo mondo alla ricerca probabilmente di una verità l'unica verità possibile è questa e quindi l'unica verità che hanno potuto esprimere è questa qui che ci hanno dato la possibilità di leggere oggi nei libri quindi la correlazione del fatto che gli elementi sono solo quattro e hanno una loro funzione e i principi che abbiamo detto prima sono solo tre così come la composizione di questi due numeri fa il numero 12 che ha tutt'altro significato cioè nel senso ha un significato conseguente ma di diversa ottava ovviamente ha una sua ragione di esistere assolutamente sì come se vogliamo tenere lo stesso filone discorsivo di prima che abbiamo che avevo anticipato quindi riportare il tutto a dei termini più moderni di una scienza che possiamo intuire quando parliamo dei quattro elementi si può ovviamente fare il rapporto delle quattro forze atomiche che tengono insieme l'atomo che è formato da tre elementi che casualmente ovviamente sono gli stessi elementi che abbiamo risposto prima come dicevamo prima ci sono questi tre principi alchemici che sono dei principi non probabilmente principi di idee non non stiamo parlando di cose fisiche come diceva Claudia possiamo parlare di principi di analogia rispetto a qualcosa di fisico però incarnano lo stesso principio questo è importante da cercare di capire quindi se oggi la scienza moderna guarda un atomo al microscopio e vede che è fatto da tre particelle diverse che un protone e un neutrone e un neutrone e l'elettrone un tempo l'alchimia divideva la materia in questi tre principi che abbiamo parlato prima all'interno dell'atomo per tenere insieme questi tre particelle ci sono quattro forze una è la forza nucleare forte una è debole una elettrica e una magnetica insomma questo è anche molto interessante vedere queste queste due verità di due scienze diverse divise da millenni di storia e migliaia forse miliardi di persone che sono vissute sulla terra per arrivare sempre alla stessa conclusione questo potrebbe farci riflettere come 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 posso dire come sono arrivati alla risposta alla domanda che ti stai facendo tu come è possibile che ci siano sempre le solite coincidenze numeriche perché probabilmente la verità è sempre quella poi possiamo esprimerla in tempi in termini diversi con idee diverse va bene però probabilmente riusciamo a vedere sempre la stessa cosa oltre lo specchio mi vengono in mente anche i sette raggi della teosofia sono molto indicativi i tre raggi della volontà la potenza l'amore la saggezza l'attività intelligente poi si uniscono i quattro raggi l'armonia la bellezza la conoscenza concreta che era l'idealismo la devozione l'organizzazione la magia sono tutte cose che unite creano macrocosmo e microcosmo siamo sempre là poi sette ma altri esempi di qualunque natura pensiamo ai musicali esatto oppure stando sulla legge del tre altre correnti esoteriche come le tre luci della massoneria che è la forza la bellezza la saggezza sono sempre vedete che rispecchiano sempre gli stessi principi con altezze diverse termini diversi ma se andiamo poi nel profondo sono sempre la stessa cosa 7 per 3 21 ci sono le 21 qualità specifiche più quella che le riunisce tutto che è il mondo dei tarocchi quindi sono 22 come gli arcani come le lettere dell'alfabeto ebraico insomma i numeri sacri sono sempre sono sempre gli stessi anche perché l'altra legge ermetica come ricordava Claudia tutto è mente tutto è numero i dodici Luigi parlavi dei dodici il numero dodici la sagretà del numero dodici anche il numerologia esoterica il dodici è l'illuminazione quindi il percorso in realtà va da uno proprio a dodici dopodiché si passa all'ottava superiore tutto il mondo poi umano è costituito su questo i dodici mesi dell'anno i dodici apostoli i dodici senizodiacali i dodici fatiche i dodici fatiche di Ercole bravissimo sono tutti costrutti umani che tendono poi ad arrivare alla sapienza primigenia che è quella della creazione cioè l'uomo attraverso questi costrutti ha fatto in modo di giungere a quella che è la verità assoluta che poi è da portare nel nostro quotidiano se io penso al numero quattro mi viene subito in mente oltre i quattro elementi le stagioni dell'anno che in pratica hanno un sono un ciclo un ciclo completo che poi si ripete quindi c'è c'è una una nascita una una crescita uno sviluppo una maturazione insomma è una è una morte e si ricomincia e quindi è una è una cosa diversa e ripetitiva molto molto precisa essendo arrivato proprio alle 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 40 quindi immagino che che voglio dire questo 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 schema possa essere riprodotto da anche dalla dagli elementi insomma dai 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 quattro elementi se ci sono delle analogie immagino che si possono trovare anche lì. Quindi parti di un ciclo. Invece i tre principi, come come se fossero elementi, parti presenti in ogni fase del ciclo. Esatto, bravissimo, esatto. Che poi volontà, potenziazione, non ti sbagli. Padre, figlio e spirito santo. Nella Trimurti, in ogni triade. Anche perché la creazione esiste, il tre esiste, perché c'è il due e l'uno, altrimenti di che parliamo? Monale. E duade. Paracelso diceva che in ogni corpo sono presenti i tre principi, zolfo, sale e mercurio, e questo corpo deve essere mosso dai quattro elementi. Esatto, bravo Ale. Coinciso. Sia il corpo umano, quello terrestre, quello di un metallo, di una pietra. Minerale, vegetale. Esatto. Sono i dieci e mezzo, abbiamo straforato. Dimmi, Anna Maria, puoi aggiungere altro? No, no, ho detto solo bellissimo. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Sì, in effetti, guarda, veramente bello tutto. Vai Claudia, con i cuoricini, proprio tanti ne servono. Aspetta, vediamo che te ne mando un centinaio anche io. Ce li mandiamo tutti insieme. Ma volete aggiungere altro prima che che prima che ci salutiamo? Io sono la frutta, cioè devo rimanere con questa cosa, è bellissima. Poi tanto che vuole, questo potrà potrà riascoltarlo, metterò nel metterò nel link. Tra l'altro io avevo idea anche di fare una cosa simpatica, adesso ve la ve la dico qua, visto che visto che io mi muovo molto anche, mi sposto parecchio e ogni tanto vado anche a presentazione dei libri. Intendevo mettere nella community, che ne so, quando vado in qualche città, magari ci organizziamo per una pizza, ci incontriamo personalmente, perché per me sarebbe una cosa molto carina. Io già vi dico che domenica prossima sto a Perugia, se qualcuno si troverà là e vogliamo mangiarci qualcosa insieme, mi farebbe piacere. Poi lo scrivo sulla comunità. Non so se scriverlo solo per le abbonate o per tutti, perché in questo mondo bisogna avere paura adesso di dire troppi nuovi spostamenti, però mi piacerebbe molto, è un modo per magari per incontrarci personalmente e conoscerci, che sarebbe veramente il top. Ti posso chiedere un favore, prima di salutarci, un giorno dovresti trattare, se fa parte dei tuoi programmi, qualcosa che riguardi il tempo? Il tempo, certo. Il tempo verrà preso in considerazione. Io non ho un programma, seguo l'intuito. Ok, perfetto, va bene. Va bene. Quindi me lo ricorderai se fra un po' non ne parlerò, così mi potrò riprendere. Grazie. Prego. Va bene. Se non abbiamo altro da volerci, da voler condividere. Buonanotte. Alessandro. Tanto è ancora attivo. Volevo fare un'ultima considerazione per il discorso che aveva iniziato Anna Maria rispetto alla pulizia del corpo, o quello che aveva detto del corpo, o di tutto quello che ci viene intorno, perché è un aspetto che a volte non è così trattato in profondità, ma è molto importante. Perché quando, mettiamola così, in medicina tradizionale cinese c'è un termine che si chiama Shen, che si può tradurre come spirito, spirito divino, no? Una cosa del genere, più o meno. Adesso poi la traduzione precisa è un po' difficile. Questo spirito dall'alto discende attraverso il corpo per incarnarsi all'interno di questo corpo, no? Se il corpo non è preparato per accoglierlo, questo spirito è molto difficile che si manifesti nel modo giusto. Quando non si manifesta nel modo giusto c'è molto attrito e si creano, purtroppo, le malattie umane che ti permettono di punire i canali per farlo attraversare, se queste malattie vengono comprese e risolte. Quindi questa condizione che noi viviamo giornalmente, da sempre, dall'alba dei tempi, di questo disallineamento nella discesa di questo spirito, ovviamente è dato anche dall'equilibrio che abbiamo attraverso le tre sostanze, i quattro elementi, nel corpo proprio. Lo stiamo parlando di qualcosa di fisico. È come se quando, facciamo un esempio, c'è una finestra offuscata dalla fuligine e non si vede attraverso. Il corpo è quella finestra, fin quando è offuscata non si vede niente. Quando il maestro del biscotto mi diceva che l'alchimia è l'arte di separare il vero dal falso, questa frase è molto interessante perché si applica benissimo in questo concetto di pulizia del corpo. E questa cosa io l'ho trovata spessissimo in tantissimi testi di uno dei maestri che mi piace tanto leggere, che si chiama Nisgaradatta Maharaji, che l'astrolabio Baldini li ha edita tutti questi libri, e lui spiega molto spesso il concetto dell'io e della falsità dell'io. Lui dice in una frase iconica, scopri il tuo io e poi uccidilo, perché quello che hai scoperto non è la verità, perché bisogna arrivare sempre oltre la prima immagine che hai di te. Quindi per concludere volevo leggere un pezzettino piccolissimo del libro di quattro righe, che però racchiude benissimo questa parte, questo concetto. Magari è un po' così, però si capisce. Lui dice nel libro, Molte persone erudite che conoscono profondamente le scritture vengono qui a parlare con me. Io non discuto con loro, non mi metto a discutere le loro idee, non voglio contrariarle. Ma dopo che hanno finito di parlare, dico, tutto quello che avete detto è vero. Ma ricordatevi una cosa, quello che siete ora, Quello stato di coscienza è il più grande inganno che ci sia, non durerà. Quindi tutto quello che abbiamo detto finora, tutte le lezioni che potremmo prendere, tutto quello che leggiamo, se non passa attraverso lo specchio dell'esperienza nel nostro corpo, e non facciamo passare attraverso la luce di questo spirito, non servirà a nulla, sarà tutta menzogna. Se una lampadina è oscurata, tutta la luce che dà il suo interno non si vedrà. Che bello. Bellissimo. Grazie. Grazie. Sperrendo. Oddio, come diceva qualcuno, mi illumino d'immenso, dinanzi a tutto questo. Felice. Allora. Fantastico, grazie Alessandro, veramente. Antonio, nulla? Ci salutiamo qua? Vuoi dire qualcosa, una parola? No? Dimmi tu. Sì. Mi è stato detto che tutto si è spaziato un po' in tutti i campi. Da Claudia, che ha toccato quasi anche il training autogeno, non ho capito, oppure si era troppo su tutto. Quindi, però comunque, se uno vuole discendere nei principi, per la fine c'è una contrapposizione. Se partiamo dall'inizio, dal discorso che hai fatto tu, Claudia, quindi c'è sempre una contrapposizione di forze. Ed è una forza che, in ogni caso, tende verso due polarità. In ogni caso, quindi quella magnetica, quella elettrica. Poi lo possiamo chiamare diversamente, se cambiamo lo strumento con cui abbiamo accesso a queste informazioni. Però, voglio dire, i ringgibili sono sempre quelli, quindi è stato, penso, un po' chiaro per tutti. Anzi, ringrazio tutti quanti per le informazioni. C'è sempre da ricchissima, è stata una cosa bella. Grazie. È vero. Grazie a tutti. Allora, buonanotte. A te. Grazie. Buonanotte. 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 Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao, Svetlana. Ciao. Grazie Gianluca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Fabrizio. Termino. Ciao. 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 Grazie.